Brillante piazza affari, best performer tra le borse europee che mostrano un robusto rally, acquisti sulle banche. In cima alla classifica a Milano troviamo Banca Popolare Emilia Romagna e Saipem, dopo il via libera egiziano lo sviluppo del giacimento a gas situato a Zor, si muove sulla parità e talcementi. L'oro prosegue gli scambi a 1.202,8 dollari l'oncia in perdita dell'1,82%. Tra le variabili macroeconomiche rilevanti in difficoltà il settore manifatturiero europeo, mentre continuano ad essere deboli i numeri dell'inflazione in Italia. Sono attesi nel pomeriggio l'indice dell'attività manifatturiera e l'indice della crescita economica dagli Stati Uniti. Positivo il future sull'S&P 500 che avanza di oltre un punto, stesso andamento per il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia 4.211,75 punti in progresso dell'1,55%. Positivo il future sull'indice di un'ottima 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 di